L'oroscopo di oggi è offerto dalle esperte del Centro dei Cartomanti Europei. Chiama allo 0773 49 36 60. Ariete. Sarete protagonisti assoluti della scena e la cosa non vi dispiacerà eccessivamente dato che la maggior parte degli spettatori e ciò che accadrà saranno tutte persone a voi care. Rivaluterete l'importanza della vostra sfera affettiva e vi godrete la serata. In amore chiacchierate i vostri sentimenti per qualcuno. Toro. Evitate la ripetività, correte il rischio di perdere eccessivamente tempo dietro a una situazione che non lo merita. In amore non siete ossessivi e questo potrebbe farvi perdere un'occasione. Gemelli. La giustizia è di solito solo per alcuni pochi privilegiati e di certo voi, in quanto a ricevere atti di vera e sana giustizia, beh, non potete di certo vantarne chissà quanti episodi, ma state sereni. Di certo, chi deve vedere vedrà e voi riuscirete come sempre a far spiccare la vostra personalità e la vostra capacità. Cancro. Dovrete seguire un modello o una procedura che per molti è da ritenere assolutamente infallibile, ma farete bene ad ascoltare un parere prima di procedere. I vostri sforzi in ambito lavorativo non corrisponderanno a un oltrettanto riscontro in termini di risultati. Se non vi abbatterete, tutto migliorerà. In amore vi renderete interessanti agli occhi di qualcuno. Leone. Giornata ricca di emozioni, passerete dalla felicità alla rabbia nel giro di pochi minuti a causa di alcune persone che susciteranno la vostra indignazione. La ragione sarà dalla vostra parte, ma non potrete fare a meno di restare con un po' di amaro in bocca. In amore il vostro pensiero sarà rivolto solo in una direzione. Vergine. Gli impegni fioccano. Il vostro orgoglio potrebbe impedirvi di accettare la delega a qualcuno, ma se doveste insistere rischiate di causare seri danni all'attività con cui siete coinvolti. Se ascolterete le persone care, deciderete per il meglio, senza alcun problema. In amore vi vendicherete i vostri diritti con qualcuno. I lavori domestici incombono. Dovrete darvi da fare, come non mai, per riuscire a mettere in ordine in una vera e propria bolgia. Un aiuto potrebbe arrivare da persone amiche, il cui intervento si rivelerà provvidenziale, per permettervi di portare a termine le vostre mansioni. In amore farete tesoro di un'esperienza. I mezzi di trasporto oggi non vi saranno amici. Dovrete anticipare i tempi per riuscire a risolvere un problema, magari con l'aiuto di una persona amica. È il momento di essere propositivi sul lavoro, visto che i vostri superiori saranno ben disposti a valutare positivamente le vostre iniziative. In amore non dovrete dare ascolto alle voci non verificabili. Sagittario Discussioni in famiglia, un acceso scambio di opinioni farà emergere attriti che non erano ancora venuti in superficie, ma il confronto potrebbe essere la volta buona per appianare una serie di divergenze che non hanno motivo di esistere. In amore giocherete con estrema intelligenza le vostre carte. Capricorno Le parole saranno la chiave di volta. Un discorso ben orchestrato vi porterà a ricoprire una posizione di vantaggio rispetto ai vostri concordenti e nessuno oserà ribattere a una vostra appassionata osservazione e questo vi metterà in luce di fronte a un superiore. In amore noterete un interesse nuovo. Acquario Agirete sull'onda delle emozioni. Solamente quando la tensione si sarà allentata sarete in grado di riflettere su ciò che avete fatto. Qualcuno cercherà di approfittare della situazione per screditarvi di fronte a una persona particolarmente influente. In amore farete notevoli passi in avanti verso il vostro obiettivo. Pesci Condividerete un'insolita esperienza vi ritroverete a vivere una situazione quasi paradossale che accanto alla persona giusta potrebbe prendere dei contorni simpatici e divertenti. Il lavoro avrà un ruolo secondario anche se non dovrete metterlo da parte. In amore dovrete prendere una decisione necessaria. L'oroscopo è stato offerto dalle esperte del Centro dei Cartomanti Europei. Visita il nostro sito www.cartomanti-europei.it